Tuttavia, proseguì il signor di Chartres, per quanto occupato e appagato io fossi da questo nuovo legame con la regina, rimanevo attaccato, madama di Temin, per una naturale inclinazione che non potevo vincere. Mi parve che ella cessasse di amarmi, se fossi stato saggio avrei dovuto servirmi di questo apparente cambiamento di lei per guarire, invece il mio amore raddoppiò e io mi condussi così malamente che la regina ebbe qualche sospetto di quella mia relazione. La gelosia è naturale nelle persone della sua razza e forse questa grande principessa ha per me sentimenti più vivi di quanto non creda ella stessa, fatto sta che il sentir dire attorno a sé che io ero innamorato le diede tanta inquietudine, così grande pena che cento volte io mi credetti perduto di fronte a lei. La rassicurai alla fine, a forza di cure, di sottomissioni e di falsi giuramenti, ma non avrei potuto a lungo ingannarla se il cambiamento di madama di Temin non mi avesse mio mai grado staccato da quest'ultima. Madame di Temin mi dimostrò di non amarmi più e io ne fui così persuaso che mi trovai costretto a non tormentarla oltre e a lasciarla in pace. Qualche tempo dopo ella mi scrisse la lettera che ho perduta e seppi così che aveva avuto sentore del mio rapporto con quell'altra donna di cui vi ho parlato e che ivi era la causa del suo mutamento. Non avendo io in quel periodo più nulla che mi distraesse, la regina era abbastanza contenta di me, ma siccome i sentimenti che ho per lei non sono di tal natura da rendermi impossibile ogni altro amore, e poiché non ci si innamora a volontà, così io mi invaghì di madama di Martigü, verso la quale avevo già provato molta attrazione quando era a Vilmonte, la migella della delfina. Ho motivo di credere che la non mi detesti. La discrezione di cui le do prova e di cui ignora le cause le piace. La regina non ha a suo riguardo nessun sospetto, invece è inquieta su un altro soggetto e la cosa non è meno spiacevole. Siccome madama di Martigü è sempre presso la delfina, io vado da questa più spesso del solito. La regina si è immaginata che io sia innamorato di questa principessa, il rango della delfina uguale al suo e la bellezza e la giovinezza che questa ha superiori a lei, le suscitano una gelosia addirittura furente e un odio contro la nuora che non riesce più a nascondere. Il cardinale di Lorena, che da molto tempo mi sembra aspirare alle buone grazie della regina e vede bene che io occupo un posto che gli bramerebbe, è intervenuto sotto il pretesto di riconciliare madama la delfina con lei nelle loro beghe. Io sono sicuro che gli ha scoperto il vero motivo della credine della regina e credo che mi renda ogni specie di cattivi servigi senza averne l'aria. Ecco lo stato delle cose mentre vi parlo. Pensate quale effetto può produrre la lettera che ho perduto e che la sfortuna ha voluto che mi mettessi in tasca col proposito di restituirla a madama di Temin. Se la regina vede quella lettera capirà che l'ho ingannata e che quasi nello stesso tempo in cui la ingannavo per madama di Temin, ingannavo madama di Temin per un'altra. Pensate quale idea si farà di me e se potrà mai più fidarsi delle mie parole. E se essa non vede la lettera che cosa potrò dirle? Ella sa che la lettera è stata consegnata nelle mani della delfina. Crederà che Châtelard abbia riconosciuto la scrittura di quella regina e che la lettera sia sua. Immaginerà forse che la persona di cui sia gelosi a lei stessa, insomma, può pensare mille cose e di mille cose che la pensi io devo temere. Aggiungete che io sono innamorato di madama di Martigü. Certamente la delfina le mostrerà quella lettera che ella crederà di data recente, così io sarò contemporaneamente in lite con la persona che più amo al mondo e con quella che più debo temere. Dopo tutto ciò, giudicate se non ho ragione di supplicarvi, di dire che la lettera è vostra e di chiedervi come una grazia d'andare a ritirarla dalle mani di madame la delfina. Vedo, disse il signor di Nemur, che non si può essere in un imbarazzo maggiore del vostro e bisogna confessare che lo meritate. Mi hanno spesso accusato di non essere fedele e di avere parecchie avventure galanti nello stesso tempo, ma voi mi superate di gran lunga, messere, e io non avrei neppure osato di immaginare le cose che avete compiute. Come potevate presumere di conservare madama di Temin quando vi impegnavate con la regina? E come speravate di legarvi con la regina e di poterla ingannare? Ella è italiana e regina, per conseguenza piena di sospetti di gelosia e di orgoglio. Quando la vostra buona stella, assai più che la vostra buona condotta, vi hanno liberato dagli impegni che avevate, ecco che ne avete presi altri, vi siete illuso che nel bel mezzo della corte poteste amare madama di Martigui senza che la regina se ne accorgesse. Avreste dovuto con ogni cura cercare di alleviarle la vergogna di aver fatto lei i primi passi, ella ha per voi una passione violenta. La vostra discrezione vi impedisce di dirmelo e la mia di chiedervelo, ma insomma vi ama, è diffidente, la verità è contro di voi. Siete proprio voi a colmarmi di rimproveri. Interruppe il bisdomino. E non dovrebbe invece la vostra esperienza farvi avere indulgenza per le mie colpe? Voglio non di meno ammettere il mio torto, ma pensate, vi supplico, attrarmi dall'abisso dove mi trovo. Mi pare che bisognerebbe che voi vedeste subito la regina delfina al suo risveglio per domandarle quella sciagurata lettera, come se l'aveste perduta voi. Vi ho detto, replicò il signor Dinemur, che la proposta che voi mi fate è piuttosto straordinaria, e che il mio interesse personale vi si oppone. Ma inoltre, se si è vista cadere la lettera dalla tasca vostra, mi par difficile persuadere la gente che sia caduta dalla mia. Credevo di avervi detto, rispose il bisdomino, che è stato riferito alla regina delfina che ha dalla vostra tasca che la lettera è caduta. Come? Riprese bruscamente il signor Dinemur, che vide in quell'istante tutte le cattive conseguenze che quell'errore poteva avere per lui nei riguardi di madama di Cleve. Come? È stato detto alla delfina che sono stato io a lasciar cadere la lettera. Sì, rispose il bisdomino, e causa dell'errore è che vi erano parecchi gentiluomini della regina in una delle stanze del gioco della pallacorda dove erano i nostri abiti, e che i vostri servi e i miei sono andati là a prenderli nello stesso tempo. La lettera è caduta, i gentiluomini l'hanno raccolta e l'hanno letta ad alta voce. Alcuni hanno creduto che appartenesse a voi, altri a me. Chatelard, che l'ha presa e al quale l'ho mandata a chiedere, ha detto di averla consegnata alla delfina come se fosse vostra, mentre coloro che ne hanno parlato alla regina hanno per disgrazia detto che era mia, sì che voi potete fare senza difficoltà ciò che mi auguro è togliermi dall'imbarazzo in cui sono. Il signor di Nemours aveva sempre avuto molto affetto per il visdomino di Chartres, e la sua parentela con madama di Cleve glielo rendeva anche più caro. Tuttavia egli non poteva risolversi ad affrontare l'eventualità che ella, la sua amata, avesse sentito parlare di quella lettera come di una cosa che lo riguardasse. Si mise a riflettere profondamente, e il visdomino, sospettando un po' con la causa di quella meditazione, gli disse, «Credo che voi temiate di avere dei guai con la vostra amante, e dubiterei anzi che si tratti della delfina se non mi dicasse il contrario il fatto di vedervi così poco geloso del signor Danville. Comunque è giusto che voi non sacrifichiate la vostra pace alla mia, voglio darvi il mezzo di provare a colei chiamate che quella lettera è rivolta a me e non a voi. Eccovi un biglietto di madama d'Amboise, amica di madama di Temin, alla quale questa ha confidato i sentimenti avuti per me. In questo biglietto ella mi ridomanda la lettera della sua amica, proprio quella che ho smarrito. Il mio nome è sul biglietto e il contenuto attesta senza equivoco che la lettera è la stessa in questione. Vi affido questo biglietto e permetto che lo mostriate alla vostra amante per giustificarvi, ma vi scongiuro di non perdere un momento e di andare questa mattina stessa dalla regina Delfina. Il signor di Nemur promise e prese il biglietto di madama d'Amboise, ma il suo proposito non era di vedere la Delfina. Egli pensava che verrà qualcosa da fare di più urgente. Egli era sicuro che la Delfina avesse già parlato della lettera a madama di Cleve e non poteva sopportare l'idea che una persona che gli amava così perdutamente lo supponesse innamorato di un'altra. Si recò da lei quando pensò che potesse essere d'Este, le fece dire che se sollecitava l'onore di essere ricevuto ad un'ora tanto straordinaria era per un motivo di grande importanza. Madama di Cleve era ancora a letto, l'animo inquieto e amaro per i tristi pensieri avuti durante la notte, quando le dissero che il signor di Nemur chiedeva di lei fu infinitamente sorpresa. Lo stato di spirito in cui si trovava le suggerì senza esitazione di rispondere che era malata e che non poteva riceverlo. Il principe non rimase offeso dal rifiuto. In quel momento in cui la poteva provare per lui della gelosia, un segno di freddezza non era di cattivo augurio. Egli andò nell'appartamento del signor di Cleve e gli disse che veniva da quello di madama sua moglie e che era ben spiacente di non averle potuto parlare avendo un incarico importantissimo da parte del visdomino di Chartres. Fece comprendere in poche parole al signor di Cleve la gravità della cosa e il signor di Cleve lo condusse senz'altro nella camera di sua moglie. Se questa non fosse stata nell'oscurità la principessa non avrebbe saputo come nascondere il proprio turbamento ed il proprio stupore vedendo entrare il signor di Nemur condotto da suo marito. Il signor di Cleve le disse che si trattava di una lettera e che si aveva bisogno dell'aiuto di lei per il visdomino, che la vedrebbe col signor di Nemur ciò che verrà da fare e che in quanto a lui se ne andava dal re che l'aveva mandato a chiamare. Il signor di Nemur rimase solo presso madama di Cleve come aveva sperato. «Vengo a chiedervi, signora», le disse, «se madama la delfina vi ha parlato di una lettera che Shatelar le ha consegnato ieri». «Me ne ha detto qualcosa», rispose madama di Cleve, «ma non comprendo che rapporto quella lettera possa avere con gli affari di mio zio e posso assicurarvi che in essa egli non è punto nominato». «È vero, signora», replicò il signor di Nemur. «Egli non vi è nominato. Tuttavia, essa è indirizzata a lui ed è per lui importantissimo che voi la togliate dalle mani di madama la delfina». «Stento a capire», riprese madama di Cleve, «il motivo per cui gli importi che quella lettera non sia veduta e perché si debba ridomandarla a suo nome». «Se volete compiacervi di ascoltarmi, signora», disse il signor di Nemur, «vi mostrerò subito la verità e saprete cose tanto importanti per il visdomino che io non le avrei neppure confidate al principe di Cleve se non avessi dovuto ricorrere al suo aiuto per avere l'onore di essere ricevuto da voi. Penso che tutto quanto mi direte sarà inutile», rispose madama di Cleve piuttosto seccamente. «Meglio è che voi andiate a trovare la regina delfine che senza raggiri le diciate quanto quella lettera vi preme dato ormai che le si è detto che quella lettera è vostra». La credine che il signor di Nemur vedeva nell'animo di madama di Cleve lo colmava del più vivo compiacimento e teneva in freno la sua impazienza a giustificarsi. «Io non so, signora», egli rispose, «ciò che si è potuto dire a madama la delfina, ma la verità è che io non ho nessun interesse a quella lettera e che essa è stata scritta al visdomino». «Lo credo», replicò la principessa, «ma è stato detto il contrario alla regina delfina e non le sembrerà verosimile che le lettere del signor visdomino cadano dalle vostre tasche, perciò, a meno che non abbiate qualche motivo che io ignoro di nascondere la verità alla regina delfina, vi consiglio di confessargliela». «Non ho nulla da confessarle», egli riprese. «La lettera non è rivolta a me e se vi ha qualcuno che io desideri di persuadere di ciò non è madama la delfina, ma, signora, siccome si tratta qui della fortuna del signor visdomino, consentite che io vi narri cose che sono inoltre degne della vostra curiosità». «Madama di Cleve significò col silenzio di essere pronta ad ascoltare e il signor di Nemours le raccontò il più succintamente che poté tutto quello che aveva saputo dal visdomino. Erano cose tali da suscitare lo stupore, pure la principessa lo ascoltò con una sì grande freddezza che pareva non le credesse vere o che le fossero del tutto indifferenti. Il suo animo rimase così, sino a che il signore di Nemours non le parlò del biglietto di madama d'Amboise che si rivolgeva al visdomino di Chartres che era la prova di tutto ciò che gli aveva detto. Siccome madama di Cleve sapeva che quella donna era amica di madama di Temin, incominciò a vedere un'apparenza di verità nel racconto del signor di Nemours e a pensare che forse la lettera non era rivolta a lui. Tale pensiero la trasse di colpo e suo malgrado dalla fredda indifferenza mantenuta sino allora. Il principe, dopo averle letto quel biglietto che costituiva la sua giustificazione, glielo porse dicendole che poteva verificare la scrittura. Ella non poteva impedirsi di prenderlo, di guardarne la sopraccarta per vedere se era indirizzato davvero al visdomino di Chartres e di leggerlo per intero onde giudicare se la lettera che in quello si reclamava fosse la stessa da lei posseduta. Il signor di Nemours aggiunse ancora tutto ciò che gli parve adatto a persuaderla e siccome è facile persuadere di una verità piacevole convinse madama di Cleve che gli non aveva nulla assolutamente a che vedere con la famosa lettera. Allora la principessa si mise a parlare con lui sull'imbroglio e sul pericolo in cui si trovava il visdomino a biasimarlo per la sua pessima condotta a cercare i mezzi di aiutarlo. Si stupì del modo di fare della regina confessò al principe di avere la lettera. Insomma, non appena persuasa della sua innocenza si pose con animo libero e sereno ad occuparsi di quella stessa faccenda che dapprima sembrava sdegnare. Essi furono d'accordo che bisognava non restituire la lettera alla regina delfina per paura che non la mostrasse a madama di Martigui che conosceva la scrittura di madama di Temin e avrebbe facilmente indovinato per l'interesse che prendeva al visdomino che la lettera era rivolta a lui. Essi trovarono anche che non bisognava confidare alla delfina ciò che concerneva la regina, sua suocera. Madama di Cleve, sotto il pretesto che si trattava degli affari di suo zio, si prestava con molta compiacenza ad essere la depositaria di tutti i segreti che il signor di Nemur le confidava. Questo principe non avrebbe continuato a parlarle degli interessi del visdomino e la libertà in cui si trovava gli avrebbe suggerito un ardire che fino allora non aveva mai osato. se non fossero venuti a dire a madama di Cleve che la regina delfina le ordinava di andare subito da lei. Il signor di Nemur fu costretto a ritirarsi. Egli andò a trovare il visdomino per dirgli che dopo averlo lasciato aveva pensato che era più conveniente rivolgersi a madama di Cleve, sua nipote che non direttamente a madama la delfina. Non gli mancarono le ragioni per far approvare il suo operato e per lasciarne e sperare buon esito. Frattanto madama di Cleve si vestì con cura per recarsi dalla regina. Non appena ella comparve nella camera la delfina la chiamò vicino e le disse a bassa voce sono due ore che vi attendo non sono mai stata così imbarazzata a celare la verità come lo sono stata stamane. La regina ha sentito parlare della lettera che ieri vi ho data e là crede che sia stato il visdomino di Chartres a lasciarla cadere. Voi sapete che si interessa un poco al visdomino ha fatto cercare la lettera l'ha fatta domandare a Chartres che ha detto di avermela data sono venuti a chiedermela sotto il pretesto che si tratta di una lettera molto bella di cui la regina si è incuriosita. Non ho osato dire che l'avevate voi ho pensato che lei immaginerebbe che io ve l'ho affidata a causa del visdomino vostro zio e che c'è fra me e lui una grande intesa. Già mi è parso che la regina sopportasse male il fatto che gli mi vede spesso sì che ho detto che la lettera era nel vestito che indossavo ieri e che le persone che alla chiave degli armadi erano uscite datemi subito la lettera soggiunse perché gliela mandi non prima di averla letta per vedere se ne conosco la scrittura. Madame di Cleve si trovò ancora più imbarazzata di quel che avesse potuto pensare non so madama come farete rispose giacché il signore di Cleve al quale io l'avevo data da leggere la resa al signor di Nemur che è venuto stamane di buon'ora a pregarlo di richiedervela il signor di Cleve ha avuto l'imprudenza di dirgli che la lettera era in sue mani e ha avuto la debolezza di cedere alle preghiere del signor di Nemur di rendergliela. Voi mi ponete nel maggior imbarazzo riprese la delfina ed avete avuto molto torto di rendere quella lettera al signor di Nemur poiché ero io che ve l'avevo data non dovevate renderla se non con il mio permesso che cosa volete che dica la regina e che cosa potrà ella immaginare crederà con tutte le apparenze che quella lettera mi concerne e che vi è qualcosa tra il visdomino e me e non si persuaderà mai che la lettera appartenga al signor di Nemur sono molto dolente rispose madama di Cleve dell'imbarazzo che vi cagiono e se è davvero grave ma la colpa è del signor di Cleve non già mia è vostra replicò la delfina perché gli avete dato la lettera siete la sola donna al mondo che confidi al marito tutto ciò che sa riconosco il mio torto signora replicò madama di Cleve ma pensate a riparare la mia colpa piuttosto che ad analizzarla non vi rammentate pressa poco il contenuto di quella lettera disse allora la regina delfina sì signora me ne rammento e la rispose l'ho riletta più di una volta allora riprese la delfina bisogna che voi andiate subito farla scrivere da mani ignota io la manderò alla regina e la non la mostrerà a coloro che hanno veduto la vera e quando anche lo facesse io sosterò sempre che a quella che ho avuto da chattelare e nessuno oserà dire il contrario madama di Cleve accettò l'espediente tanto più pensando che avrebbe mandato a chiamare il signor di Nemours per riavere la lettera farla copiare parola per parola farne imitare all'incirca la scrittura e credete che la regina sarebbe rimasta senz'altro ingannata non appena fu nelle sue stanze raccontò al marito l'impiccio in cui era la delfina e lo pregò di mandare a cercare il signor di Nemours fu fatto ed egli venne immediatamente madama di Cleve gli disse tutto ciò che aveva riferito al marito e gli domandò la lettera ma il signor di Nemours rispose che l'aveva subito resa al visdomino di Chartres che era stato così felice di riaverla e di essere fuori di pericolo che l'aveva rimandata immediatamente all'amica di madama di Temin madama di Cleve si trovò in una nuova difficoltà finalmente dopo essersi ben consultati risorsero di far la lettera a memoria per questo lavoro si chiusero a chiave diedero ordine al portone di non lasciare entrare nessuno e rimandarono a casa le persone del seguito del signor di Nemours quest'area di mistero e di intimità era non poco seducente per il principe e anche per madama di Cleve la presenza del marito e l'interesse del visdomino di Chartres la tranquillizzavano in certo qual modo sui suoi scrupoli non sentiva se non il piacere di vedere il signor di Nemours ne aveva una gioia pura non mai provata essa le dava una libertà e una letizia di spirito che il signor di Nemours non aveva mai notata in lei e che raddoppiavano il suo amore siccome non aveva mai avuto momenti così piacevoli la sua vivacità ne era aumentata e quando madama di Cleve volle principiare a ricordarsi della lettera e a scriverla il principe invece di aiutarla seriamente non faceva che interromperla ad ogni momento e dire delle cose scherzose madama di Cleve divenne allegrissima anch'ella sicché era già molto tempo che erano rinchiusi e già due volte la regina delfina aveva mandato a dire a madama di Cleve di sbrigarsi che ancora la metà della lettera non era stata scritta al signor di Nemur non pareva vero di prolungare un tempo che gli era così dolce e dimenticava gli interessi dell'amico madama di Cleve non si annoiava e dimenticava dal suo canto gli interessi dello zio e finalmente solo verso le quattro del pomeriggio la lettera fu finita ma era così mal fatta e la scrittura con cui venne copiata rassomigliava così poco a quella che si era voluto imitare che sarebbe occorso che la regina non avesse avuto alcun interesse a conoscere la verità per non conoscerla ed ella non rimase ingannata per quanto si cercasse di persuaderla che quella lettera era rivolta al signor di Nemur ella non solo rimase convinta che era del bisdomino di Chartres ma credette che la delfina vi avesse parte e che vi fosse fra i due qualche intesa segreta e questo pensiero accrebbe in tal modo l'odio che l'aveva per quella principessa che non le perdonò mai e la perseguitò finché non l'ebbe fatta uscire dalla Francia in quanto al bisdomino di Chartres la sua rovina di fronte a lei fu un fatto compiuto e sia che il cardinale di Lorena si fosse già reso signore dello spirito della regina o che l'avventura della lettera dimostrandola di essere stata tradita la aiutasse a scoprire gli altri inganni del bisdomino certo è che questi non poté mai più essere in buoni rapporti con lei la loro relazione finì ed ella provocò la sua perdita quando avvenne la congiura d'Amboaz in cui si trovò coinvolto dopo avere mandata la lettera alla delfina il signor di Cleve e il signor di Nemours se ne andarono madama di Cleve rimase sola e non più sorretta da quella gioia che dà la presenza della persona amata le parve di svegliarsi come da un sogno considerò con stupore la straordinaria differenza fra lo stato della sera precedente e quello d'allora ripensò alla durezza e al gelo che aveva dimostrato al signor di Nemours quando credeva che la lettera di madama di Temin fosse rivolta a lui e quale calma quale dolcezza fossero subentrate non appena egli l'aveva persuasa che quella lettera non lo concerneva ricordando ed essersi rimproverata come d'un delitto il giorno innanzi il fatto di avergli manifestato segni d'attenzione che la sola compassione poteva avere suscitati e che con la sua asprezza gli aveva rivelato i sentimenti di gelosia che erano prova sicura di passione e la non riconosceva più se stessa e pensando che il signore di Nemours vedeva bene che la s'accorgeva del suo amore e che ciò nonostante non lo trattava male neppure in presenza del marito che anzi non l'aveva mai guardato con tanta simpatia che a cagione sua il signor di Cleve l'aveva mandato a cercare che si avevano passato un intero pomeriggio insieme confidenzialmente ne concludeva che esisteva una specie di accordo fra lei e il signor di Nemours che la tradiva un marito che meno di ogni altro al mondo meritava di essere ingannato e si sentiva vergognosa di apparire così poco degna di stima agli occhi stessi dell'amante ma ciò che meno di ogni altra cosa le riusciva sopportabile era il ricordo dello stato in cui aveva trascorso la notte prima e le cocenti sofferenze causatele dal pensiero che il signor di Nemours amasse un'altra e la ingannasse fino allora ella aveva ignorato le mortali inquietudini della diffidenza e della gelosia non aveva pensato che a proibirsi di amare il signor di Nemours e non aveva mai ancora temuto che gli amasse un'altra donna ora benché i sospetti suscitati da quella lettera fossero dileguati e si le aprivano però gli occhi sull'eventualità di essere tradita e di provare sentimenti di timore e di gelosia mai prima conosciuti fu stupita di non avere mai pensato come fosse poco credibile che un uomo come il signor di Nemours che era sempre stato così leggero nei suoi rapporti femminili si dimostrasse capace di un sentimento sincero e durevole le parve quasi impossibile di poter essere lieta della passione di lui ma quando anche potessi esserlo si diceva che cosa voglio io farne accoglierla ricambiarla impegnarmi in una faccenda galante venir meno alla fede data al signor di Cleve espormi infine ai pentimenti crudelli e ai dolori mortali che procura l'amore io sono convinta e dominata da un'attrazione che mi trascina a mio malgrado tutte le mie risoluzioni sono vane io pensavo ieri tutto ciò che penso oggi eppure faccio oggi tutto il contrario di ciò che ieri avevo deciso bisogna che io mi strappi dalla presenza del signor di Nemours bisogna che io me ne vada in campagna per quanto l'allontanamento possa sembrare strano e se il signor di Cleve si ostina a ostacolarlo o a volerne sapere i motivi ebbene a costo di fargli del male e di farne a me stessa io glieli dirò ella si fissò in tale decisione e passò tutta la sera in casa senza andare dalla delfina a sapere ciò che era accaduto della falsa lettera del bisdomino quando il signore di Cleve rientrò ella gli disse che voleva andare in campagna che non si sentiva bene e che aveva bisogno di cambiare aria il signor di Cleve che la trovava di una bellezza da fargli ritenere che i suoi mali fossero insignificanti scherzò dapprima sulla proposta di quel viaggio osservandole che dimenticava che si era la vigilia delle nozze principesche e del torneo e che le restava ben poco tempo per prepararsi a figurarvi con lo stesso sfarzo delle altre dame le ragioni di suo marito non le fecero mutare disegno lo pregò di accettare che mentre gli si sarebbe recato a compiegne con re e l'andasse a Coulomiers che era una bella casa una giornata da Parigi che si avevano fatta costruire di recente con molte cure e il signor di Cleve finalmente ha consentì e la viandò col proposito di non tornare tanto presto e il re partì per compiegne ove non doveva fermarsi che qualche giorno e il signor